Un confronto con i tre candidati a sindaco ai quali è già stato consegnato un documento contenente le principali problematiche del mondo agricolo e l'iniziativa assunta dalla Copagri di Nino Indelicato che tra le criticità più evidenti evidenzia quella della viabilità rurale così come quella del servizio e della valorizzazione delle produzioni locali. Nino Indelicato rivendica la centralità dell'agricoltura nel tessuto socio-economico della città di Sciacca. Si viene trascurato il settore dell'agricoltura come settore portante nell'articolata economia saccente. C'è la marineria, ci sono tantissimi altri settori e l'agricoltura non è seconda a questa, ma non è valorizzata, ma non solo in un contesto comunale. Noi vediamo mentalmente, abbiamo una visione complessiva di tutto il territorio. Se l'agricoltura di Sciacca è la prima di agrigento a livello di agro e è la prima a livello siciliano, ci sono operatori private e cooperative che sono un fiore all'occhiello della Sicilia, della regione Sicilia e tutti ci invidiano. Non riusciamo a ottimizzare, a valorizzare, a mettere a sistema il mondo agricolo, le produzioni totali del mondo agricolo con la marineria, con l'artigianato, con la ceramica, con il termalismo. O l'abbiamo dimenticato? Noi facciamo uno sforzo e vediamo che c'è un tutt'uno. Tutto questo ragionamento deve essere portato dopo la campagna elettorale, perché durante la campagna elettorale con chi si parla sono tutti d'accordo, tutto è fattibile, tutto è giusto, abbiamo ragione, però comunque poi dall'indomani ognuno autodetermina perché noi ci rivolgiamo ai candidati al sindaco, perché i sindaci sono l'anima e il motore di un'amministrazione comunale, perché gli assessori, va bene, poi preposti ai vari settori e nel caso specifico nel mondo dell'agricoltura, poi si ritagliano un livello di soddisfacimento più personale che collegiale di risposta alle organizzazioni. Noi siamo stufi, il mondo agricolo è stufo, il mondo agricolo vuole essere considerato per quello che è senza privilegi. Noi non vogliamo privilegi, vogliamo quello che ci spetta nell'interesse comune nostro, dei nostri figli e del benessere della nostra città, in concomitanza, in sintonia con il territorio, ad esempio sul settore zootecnico, chi sa quanti capi sono e come sta andando la zootecchia del distretto di Sciacca che è fatto di sei comuni. Questo fatto viene preso sotto campo, la stessa discussione noi l'abbiamo avuta nel settore viticolo, non ci sono più vigneti nel territorio di Sciacca e non è così, No, questo è un modo come scappare. Noi vogliamo discutere garbatamente, equidistante da un indirizzo, da una scelta che possono fare i cittadini e gli agricoltori verso i tre candidati, perché ci riteniamo forti delle nostre ragioni e vogliamo avere credibilità ed essere attore principale all'interno delle cose da fare e da poter proiettare. Da cinque anni molte cose non si faranno e saranno anche difficili nell'immediato, ma tu devi avere un progetto.